buongiorno benvenuti lezione numero 21 oggi ci divertiamo spero inventiamo due giochi snake e il pacman pacman non è che si implementa così in un'oretta ci terrà compagnia sicuramente domani e probabilmente anche parte della prossima settimana se non ci chiudono prima per quanto riguarda lo snake abbiamo una traccia con dei suggerimenti in realtà lo scopo di questo snake prendere confidenza con i meccanismi di base di un gioco e principalmente il concetto di motore di gioco di refresh di frame rate eccetera si chiede di realizzare un gioco dello snake simile al culo del nokia in particolare ho messo qui sotto anche i colori originali che sono in realtà i colori dello schermo lo schermo di questo nokia 3310 non mi ricordo il numero del modello aveva solo due colori questo giallo vertastro e questo grigio che corrispondono a questi due colori quindi noi useremo questi due colori serviva se no cambiamo i colori se preferite colori più sgargianti dobbiamo implementare il metodo paint event di widget perché è il metodo che si occupa di ridisegnare a schermo quindi dobbiamo disegnare da zero un gioco lo dobbiamo fare ogni tot frame al secondo quindi ci serve un motore di gioco che è un timer non perché siamo in tutti ma lo sarà in tutti i giochi in tutti i giochi serve un timer che ogni tot millisecondi impone il ridisegno quindi il frame rate in realtà dal lato programmazione è imposto poi succede può succedere che l'auto invece rendering questo frame rate non sia rispettato perché io voglio aggiornare il gioco che ne so 60 volte al secondo però ogni singolo aggiornamento richiede più tempo del 60 volt di un secondo diviso 60 e quindi frame rate reale percepito è minore di quello programmato questo succede quando il gioco è troppo complesso può succedere anche nei giochi vostri o almeno il super mario può succedere se per esempio compiliamo in modalità debug mi è successo dei ragazzi non si ricordavano di selezionare la modalità release in visual studio debug come abbiamo visto altre volte è molto più lenta perché non fa ottimizzazione e dicevano presto il gioco va a scatti va a scatti significa che il frame rate non è rispettato tra l'altro anche il pacman potrebbe avere questo problema se non siamo bravi perché perché il pacman va a 60 frame al secondo anche se la versione originale comunque si connetteva ad un televisore i televisori avevano frequenze beh no ci sono i televisori a 50 hertz televisore a 60 hertz quindi comunque la frequenza di aggiornamento era più o meno 60 fermi al secondo nei videogiochi moderni invece gli schermi i schermi dei computer moderni e anche di alcune televisioni moderne sono super on i 100 hertz avete voi qualche schermo a 100 hertz ce l'avete quindi significa che lo schermo di suo potrebbe aggiornarsi 100 volte al secondo e quindi se il gioco si aggiorna certo volta secondo questa cosa coincide quindi si vede la fluidità del gioco l'occhio umano apprezza il videogiocatore ok quindi noi gioco semplice snake serve un motore di gioco serve un timer il timer è un oggetto che emette un segnale quindi signa slot stesso concetto anche qui noi lo riutilizziamo quindi avremo un timer che emette un segnale time out ogni interva millisecondi decidiamo noi con set interval quindi se decidiamo 60 frame al secondo l'intervallo sarà mille millisecondi diviso 60 questo è l'intervallo di aggiornamento del nostro del nostro snake bei comandi sono da tastiera non c'è nessun altro suggerimento quindi non ci resta che andare nell'implementazione implementazione che uno dice l'hai già fatta no sono praticamente tutti i metodi vuoti però ci viene comodo mi viene comodo avere già delle delle cose scritte così non mi metto a dire include main proprio da 00 faccio spendo 15 minuti in più che ci potremmo giocare per cose più importanti quindi il nostro main è il solito main che mostra una finestra questa finestra è una widget che abbiamo chiamato snake potremmo chiamarlo snake window come preferite e per adesso non c'è nient'altro che il timer in questo in questo questa widget c'è il timer c'è la implementazione dei metodi paint event perché bisogna disegnare chi press event perché bisogna catturare gli eventi da tastiera per comandare il gioco e andiamo a vedere cosa ho scritto poche righe ragazzi veramente nel costruttore ho connesso il motore di gioco ovvero il suo segnale time out allo slot che ho chiamato advance del gioco è uno slot che non fa altro che aggiornare la finestra update non è un metodo che ho scritto io è un metodo di tutti i widget che significa aggiornare se noi diciamo la finestra aggiornati questo forza la chiamata del metodo paint event perché paint event viene invocato dove sta quando la finestra ha bisogno di ridisegnarsi questo capita quando la finestra nasce la prima volta capita quando la finestra viene ridimensionata capita quando viene minimizzata e poi ripresa e capita anche quando io posso forzare questa cosa chiamando il metodo update quindi in realtà quando noi questo timer che tra l'altro non abbiamo ancora settato non abbiamo sentato qua nel reset beh qua abbiamo settato 100 millisecondi quindi questo andrà a 10 frame al secondo se vogliamo 60 millisecondi questo 60 frame al secondo questo è quello che dobbiamo scrivere perché questo è l'intervallo in millisecondi di aggiornamento quindi mille un secondo diviso 60 questo andrà a 60 frame al secondo ora il framerate però non è sempre sinonimo di bellezza di insomma una cosa che piace un framerate più alto è meglio è perché un gioco come lo snake se va a 60 frame al secondo significa che lui per 60 volte fa un passo avanti in un secondo quindi questo frame che nel nostro questo snake nel nostro schermo andrà talmente veloce che noi non riusciremo a controllarlo e questo spiega perché non sempre il framerate deve essere alto anzi nel gioco dello snake del nokia io non ricordo assolutamente un framerate di 60 frame al secondo a occhio se proprio dovessi buttarmi dovrebbe essere una cosa tipo di tt 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 e quanti ci sono quanti tic ci sono in un secondo 0 1 2 più o meno 5 6 quindi già avere messo qua 100 cioè 10 tic al secondo già questo è uno snake a occhio più veloce del dello snake originale anzi nello snake originale io non ricordo adesso esattamente sono passati tanti anni ma mi pare di ricordare c'erano due versioni dello snake a seconda dei nokia che c'erano sul mercato e mi pare che uno dei due snake andava più veloce mano a mano che io catturavo più cibo quindi questo andare più veloce mi fa pensare che durante il gioco noi possiamo cambiare questo framerate quando il giocatore mangia un cibo una casella dove c'è il cibo possiamo noi velocizzare il gioco e questa è la difficoltà praticamente la difficoltà cresce quindi più mangio più lo snake si allunga e più è veloce il gioco quindi questo per adesso lo mettiamo così poi magari lo ritocchiamo anche durante il gioco il paint event in questo momento non disegna nulla si occupa solamente di stanziare il painter che prende in ingresso un device su cui disegnare e il device è il widget stesso per cui dis e l'advance è un metodo che in questo momento aggiorna la finestra ma non fa niente per esempio potremmo metterci noi una stampa possiamo metterci anche il numero del frame quindi possiamo prendere una variabile statica che inizializziamo a 0 frame counter questa la stampiamo frame uguale tal dei tali e la incrementiamo a ogni chiamata questa è una variabile statica significa che a ogni chiamata a memoria del valore precedente e quindi questo ci fa ci dovrebbe far vedere che effettivamente se il gioco parte dobbiamo vedere frame 0 1 2 3 alla velocità con cui i frame si susseguono la finestra non mostra niente a riga ricomando non viene stampato niente perché questo questo motore di gioco non è mai stato fatto partire è un motore che parte con il metodo start è un timer start stop quindi noi quando dobbiamo far partire il gioco dobbiamo fare start al motore di gioco quando dobbiamo metterlo in pausa o fermarlo dobbiamo fare stop al motore di gioco quindi questo è l'inizio la fine la pausa il resume di un gioco tra l'altro questo da traccia è richiesto che implementi anche la pausa è il resume cioè riprendi il gioco dopo che l'hai messo in pausa a livello di eventi da tastiera ho solo predisposto la cattura di freccia destra freccia sinistra giù su premo s per partire p la pausa r resume n new game quindi ho solo predisposto la cattura di questi pulsanti ma non ci ho scritto niente notate che tutto questo codice che praticamente non fa ancora nulla è solo una predisposizione sono 60 righe di codice se io vi dicessi che lo snake si può implementare e ci siamo riusciti non tutti gli anni l'anno scorso si in 100 righe di codice non ci credereste significherebbe che ne mancano solamente 40 c'è possibile mai che in 40 righe di codice che ci apprestiamo a scrivere lo snake lo implementiamo come quello del nokia davvero che funziona addirittura anche con la scritta del punteggio che va più veloce se mangio il cibo con la generazione di cibo mangia lo snake che si può attorcigliare la morte e lo schermo diventa rosso in 40 righe di codice sì è possibile vediamo se ci riusciamo non tutti gli anni ci si riesce è una sfida che vi faccio e che vi pongo sì questo lo possiamo decidere noi in realtà da questa immagine si mostra praticamente già la soluzione perché questo è uno snake che passa da una parte all'altra e quindi è uno snake che usa l'aritmetica modulare se l'avete mai sentita questa parola cioè che il bordo destro corrisponde al bordo sinistro il bordo superiore a quello inferiore eccetera quindi dovremmo fare qualche aggiustamento nelle coordinate dello snake cioè se lo snake passa il bordo destro deve essere teletrasportato al bordo sinistro tra l'altro questo concetto di teletrasporto è presente anche in pacman sì 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 io ricordo addirittura il primo snake che ho giocato in un cellulare diverso da questo con il più vecchio nokia 90 qualcosa stoccavo il bordo e moriva e non c'era possibilità di sceglierlo quello era il primo vero snake è quello tanto lo snake è un gioco inventato proprio per nokia cioè gioco originale inventato per nokia quindi la storia dello snake è anche la storia di questo cellulare che ormai ci sono i meme su internet che se cade da qui ammazza lo studente che passa dal marciapiede o il docente che passa dal marciapiede ma ovviamente non si rompe casomai scafisce il cemento della della strada l'asfatto ma non si rompe va bene quindi quindi siete d'accordo con me che anche se vi ho predisposto tutto questo codice in realtà non ha fatto proprio nulla tant'è che il gioco non parte nemmeno perché perché nessuno gli ha detto di prendi scusi professore sì ma per quale motivo nel keypress event lei ha predisposto degli if invece di un switch case ad esempio aveva ragione si poteva tranquillamente pensare ad uno switch soltanto che non ricordavo se voi avevate fatto lo switch e quindi ho pensato ad un effetto comunque sono equivalenti lo switch viene a livello di implementazione nel calcolatore è equivalente all'exif quindi però giusta osservazione sì si può fare tranquillamente con uno switch forse anche più più elegante il motivo per cui in realtà tendo a non usare gli switch nei keypress event è perché a volte non è mutuamente esclusivo la realtà a volte si potrebbero premere più di un pulsante alla volta quindi adesso questa è una cosa un po complessa che non ci interessa in questo gioco però non sempre è mutuamente esclusiva la situazione quindi in quel caso lo switch non si può proprio usare e in quel caso non ci sono gli else if ma ci sono gli if vabbè comunque non è questo il caso e facciamo partire il gioco vediamo che davvero rispetta questo frame rate quindi dovrei vedere in un secondo 10 frame dove lo facciamo partire per esempio premo s deve partire il gioco quindi il gioco partire significa che devo dire al motore di gioco di partire quando questo motore di gioco parte significa che inizierà ad emettere dei segnali di tipo time out ogni 100 millisecondi quindi 10 volte a secondo questi segnali sono connessi allo slot advance che tra l'altro vi dico che questo nome che ho scelto non è una scelta mia ma è una convenzione nel mondo dei videogiochi cioè noi oggi domani e la prossima settimana alcune delle cose che vediamo non sono delle mie invenzioni ma sono convenzioni del mondo dei videogiochi cioè lo slot il metodo che si occupa di far avanzare il gioco tradizionalmente si chiama advance alcuni lo chiamano anche update noi non possiamo chiamarlo update perché l'update in realtà qui in qt significa aggiornare la finestra quindi lo chiamiamo advance però in realtà molti lo chiamano advance cioè se voi andate nei codici c++ dei giochi trovate un metodo advance che fa quello che facciamo noi e altre scelte che vedremo in seguito beh non ci resta che provare vediamo se è vero che ci sono 10 frame al secondo se premo start però è quindi premo start no ce ne sono un po' di più quindi c'è qualcosa che ci è sfuggito però intanto il fatto che è partito ci piace poi ci piace anche visto che abbiamo fatto lo start possiamo fare anche la pausa quindi la pausa possiamo farla dicendo fermati stop e il resume possiamo fare di nuovo inizia perché non ha funzionato beh a occhio questo set in terra viene fatto in un reset che nessuno mai ha chiamato il reset è un metodo che dovrebbe fatto quando per esempio nel costruttore sicuramente ma in generale andrebbe fatto quando si inizia una nuova partita quindi che ne so quando premiamo n siccome nel frattempo noi per esempio lo snack andava più veloce abbiamo fatto game over dobbiamo iniziare una nuova partita iniziano partita premendo n allora quel momento per esempio per fare un reset quindi lo facciamo nel costruttore la prima volta che parte il gioco e nel nuova partita quando una partita va chiusa perché si chiusa con la sconfitta e si chiude sempre con la sconfitta e lo snack in un gioco non vincibile perché prima o poi lo snack sarà a lungo tanto quanto lo schermo e quindi per forza di cose mangerà il cibo e morirà vediamo adesso se va di ci ferma secondo adesso si si vede a occhio che va di ci ferma secondo se premo pausa si ferma se premo resume ricomincia pausa ricomincia il nostro motore di gioco funziona come ci si aspetterebbe sì in realtà il comportamento e la domanda che lei mi ha fatto mi porta a farvi fare una riflessione una riflessione anche del tipo lo start in questo momento è uguale a resume cioè tutte e due fanno partire il gioco il timer poi un'altra cosa da chiedersi è ma quindi se io sto se io già sono in pausa e per un'altra volta pausa faccio stop due volte cioè possono succedere delle cose un po strane o meglio in generale nei giochi e questa è la riflessione che vi spingo a fare non solo nei giochi in realtà anche nelle applicazioni ma soprattutto nei giochi è necessario modellare o di una parolona che vi spaventa una macchina stati finiti che cos'è una macchina stati finiti in poche parole è un diagramma in cui c'è un numero di stati finito quindi ne so in questo caso ci saranno cinque sei stati dobbiamo parlarne e le transizioni da uno stato all'altro sono ben determinate che significa ragazzi che il gioco si può trovare solo in uno di quegli stati e i passaggi da uno stato all'altro non sono sempre consentiti cioè se io sono in uno stato di pausa posso solamente riprendere il gioco opposto solamente se voglio posso anche cerchi di non volerlo farà una nuova partita così come se io sto in pausa non posso cambiare la direzione dello snake quindi se io inizio uso i comandi dello snake ma sto in pausa il gioco sta in pausa quindi non deve rispondere ai comandi del giocatore quindi ci sono tutta una serie di di condizioni che uno deve rispettare e e di aiuto farlo se si modella una macchina stati finiti questa cosa però ragazzi si fa molto più semplice di come ve l'ho detta quindi faccio prima a farvi vedere come si fa e poi ci riflettiamo sopra la prima cosa che si deve pensare quando si pensa ad un gioco ma un qualunque gioco e non solo snack anche i pacman anche altri giochi che magari implementate voi e pensare di ragionare su quello che il game state una serie di stati di etichette e ma ci consente di ragionare in termini di etichette che corrispondono poi a dei numeri che definiscono tutti gli stati possibili del gioco per esempio uno stato possibile potrebbe essere ridi ridi è un gioco che è pronto a partire ma non è ancora partito prima ancora di partire quindi non è quando lo metto in pausa ridi e ridi all'inizio per esempio cioè proprio la prima volta che parte il gioco oppure quando c'è stato game over e il giocatore dice nuova partita poi running running significa gioco che sta in questo momento proprio è attivo c'è proprio lo snack si sta muovendo poi post un gioco messo in pausa ovviamente non c'è resumo perché un gioco che è stato ripreso va in running quindi mi accorgo anche che questo stato è ridondante rispetto agli altri poi c'è game over il game over è uno stato a sé stante perché il game over tipicamente c'è una scritta c'è una schermata diversa e il gioco si ferma ma non è un fermarsi come se fosse in pausa è un game over è uno stato a parte e poi magari ci sono altri tipi di stati che adesso non mi vengono in mente però intanto ne abbiamo messi un po ne abbiamo messi un po sul tavolo ovviamente questa è una definizione di quali stati possibili può assumere il gioco però dobbiamo dire che questo è una variabile dell'oggetto quindi l'oggetto ha una variabile che si chiama game state oppure lo possiamo chiamarlo solo state perché è un gioco è ridondante dire game state se no dovrei dire game size game state ogni cosa inizia con game è ovvio che questo è un gioco non c'è bisogno di ripeterlo e quindi a questo punto adesso che ho questa variabile diventa più agevole gestire le transizioni di stato i controlli su ma se sono in questo stato posso andare in quest'altro sì o no lo decidiamo noi che abbiamo il controllo quindi quando il gioco si resetta ovvero quando lo chiama questo reset lo chiama il costruttore e chi altri quale dovrebbe essere lo stato del gioco chiedo a voi tra quelli che abbiamo definito prima resetta resetta significa proprio è come se fosse la prima volta che questo gioco viene lanciato ready quindi il gioco è pronto per è pronto e quindi come se fosse la prima volta il reset adesso questo fa cancella tutto quello che è successo si ritorna alla situazione originale di gioco pronto e qui già possiamo chiederci delle cose per esempio e questo risponde già domanda dello switch i tasti destra sinistra giù e su io li vado a controllare non così sempre e quindi non lo switch ma solo se lo stato è di tipo running quindi se lo stato di tipo running io mi vado a chiedere ora non so se preferite mettere una if innestata oppure fare qui la doppia condizione che preferite le if delle quattro direzioni dentro if state running oppure mettere qua if state running and chi pensate alle righe di codice se vogliamo se vogliamo raggiungere questa questa questo obiettivo di righe di codice non sto dicendo che quello deve essere un obiettivo però è anche carino poter dire io ho fatto lo snack in classe in meno di cento righe di codice quindi si è sì dobbiamo cominciare a essere risparmiosi però penso questo faccia capire il motivo per cui non possiamo usare la switch quindi prima non potevo dirlo perché è ancora troppo presto per dirvi il motivo quindi dobbiamo metterlo in tutte le condizioni che vanno a catturare i tipi di di lettera i tipi di direzione professore e scusi vorrei fare una domanda ma nel caso in cui però il gioco in modalità ridi come faccio a dirgli il primo movimento che deve compiere ridi è un gioco che ancora non è proprio partito quindi non deve compiere i movimenti io immagino il gioco ridi è una schermata iniziale in cui magari può anche apparire lo snack fermo però fermo e può apparire una scritta del tipo press s start però è uno stato in cui non ci sono comandi cioè l'utente non può comandare lo snack a meno mi viene in mente questo però è comunque una cosa che possiamo che possiamo decidere insieme ce ne possiamo anche decidere che quando il gioco parte parte proprio c'è proprio lo snack si muove subito oppure possiamo immaginare uno stato ridi in cui il gioco aspetta che l'utente prema un tasto per partire cioè ragazzi la decisione sta tutta qua esiste o non esiste uno stato ridi se esiste allora avrebbe senso che il gioco parta e stia fermo e l'utente prema s e inizi se non esiste questo stato ridi significa che il gioco quando parte parte subito proprio inizia a muoversi lo snack ragazzi è una decisione progettuale a livello di come volete che sia il vostro gioco è più educativo questo ridi perché vi aiuto a capire le transizioni di stato se elimino questo stato tra l'altro c'è anche un altro problema che lo vedremo nel pacman in progetti più complessi quando io sto nel costruttore non sempre posso predisporre tutto il livello tutta la scena c'è un problema lo vedremo in seguito di caricamento del livello per cui avere uno stato ridi è importante per separare proprio temporalmente il momento in cui io preparo tutto e il momento in cui tutto parte perché far partire tutto insieme mentre preparo e mentre parte nel costruttore è un po un cane che si morde la coda è un gioco che si sta costruendo e proprio il costruttore e mentre si sta costruendo deve far partire il gioco ma il gioco è esso stesso e quindi a volte si può innescare un effetto proprio anche nel codice in cui c'è un errore a tempo di esecuzione perché il costruttore necessita dell'oggetto ma l'oggetto ancora non è stato costruito e quindi è un cane che si morde la coda quindi avere uno stato ready a volte proprio quasi un obbligo un requisito altrimenti non saprebbe non saprei come 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 separare queste due cose però comunque sono decisioni potete anche nel caso dello snack si può anche eliminare questo stato ready ora però vi chiedo se l'utente premesse s significa fai partire il gioco anzi forse mi accorgo che il reset non va ha fatto tanto in nuova partita o forse sì non lo so dipende però sicuramente se il gioco preme start se l'utente preme start e il gioco deve partire da quale stato può andare in in quale stato l'utente può premere start solamente se il gioco è ready ready quindi se il gioco è ready allora tu vai start tra l'altro il fatto di dire start significa che il gioco è partito e quindi dobbiamo fare la transizione di stato la transizione di stato significa che da ready ho premuto start e sono andato in running questa è una macchina stati finiti stato azione vado in un altro stato azione vado in un altro stato quindi una serie è un diagramma purtroppo non potrei usare la lavagna ma sarebbe complicato un diagramma una macchina stati è una cosa di questo tipo fini state machine esattamente una cosa di questo tipo quindi un diagramma in cui c'è gli stati e da ogni stato si tiravano una o più azioni che mi consentono di andare ad un altro stato e questo stiamo facendo i giochi sono macchine a stati finiti perché se non lo fossero ci sarebbe impredicibilità di quello che è il comportamento del gioco il gioco deve avere un comportamento assolutamente predecibile altrimenti altrimenti poi ci sono i bug gli scenari non concepiti eccetera questo vale in generale per tutte le applicazioni informatiche anche le simulazioni non solo i giochi bene se invece io premo p io posso mettere in pausa in qualunque momento solo con il running perché se io sto in stato ready non posso mettere pausa quindi se io sto in running posso mettere pausa mettere pausa significa fare una transizione di stato da running a pausa è lo stesso io posso premere resume solo se sto in uno stato di pausa e fare una transizione di stato a running a questo punto il nuovo gioco io non so nemmeno se ci serve il nuovo ci serve il nuovo gioco sì perché il nuovo gioco serve per resettare ma io quando è che posso resettare o questa è una decisione o o solo quando va in game over quindi solo se perdi può iniziare una nuova partita oppure può iniziare una nuova partita in qualunque momento non lo so nello snack originale non mi ricordo però siccome stiamo facendo questa macchina stati finiti ha senso questa cosa specialmente se sei diciamo che mover quindi se sta in game over poi fare una nuova partita farà una nuova partita significa resettare quindi resettare significa che ne so scompare la schermata di game over riappare la schermata quella di benvenuto del gioco e quindi per esempio potrebbe aver senso dire passare adesso allo stato ready però siccome chiamiamo reset e siccome reset dentro già lui dice stato ready non c'è bisogno di riscriverlo da dentro il reset già impone la transizione nello stato di ready beh ragazzi a questo punto abbiamo fatto le transizioni sì sì ci ho pensato anch'io sì sì avrebbe senso sì 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 qui in quel caso però assuma una doppia funzionalità s inizia una nuova parte inizia una partita quando stai in ready oppure se sta in game over re inizia una partita va bene per risparmiare un po di righe di codice va bene sì ha senso però dobbiamo stare più attenti qui in s dobbiamo dire puoi iniziare una nuova partita se sta in ready oppure se sta in game over giusto e però questa cosa va messa tra parentesi perché è una or tra questi due quindi deve rispettare lo stato deve essere o ready o game over in più la 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 il pulsante deve essere s prima di fare start devi fare reset giusto questo devi fare per forza però facciamo attenzione perché il reset impone lo stato ready e quindi se impone lo stato ready e io poi faccio partire il timer è una contraddizione quindi vede dove stanno gli inghippi quindi togliere state significa anche aumentare la complessità oppure oppure bisogna rinunciare allo stato ready vediamo un po però c'è il running qua quindi effettivamente me ne frega non ce ne frega molto perché anche se reset rimette a mette a arredi poi c'è comunque lo state questo questo è l'ultima riga di codice quindi si impone un running è importante però che resente sia prima dello start del running quindi per risparmiare di codice mi risparmio tre righe di codice che poi in realtà noi alla fine di questa lezione possiamo anche fare questo mettere la prima graffa come si fanno in alcuni stili e beh lo faremo se avremo bisogno useremo questo trucco per scendere di righe di codice vediamo dove arriviamo e ovviamente i frame penso non ce ne fregano quindi questi li cancelliamo per adesso mi pare che le transizioni di stato le abbiamo gestite tutte mi pare di sì non credo che ci siano problemi da questo punto di vista beh adesso il problema è che noi non abbiamo fatto ancora niente cioè lo snake dove si disegna iniziamo a disegnare magari che dite iniziamo a disegnare iniziamo a disegnare per esempio lo sfondo tutto giallo e beh lo sfondo tutto giallo è un rettangolo che occupa tutto lo schermo e c'ha un brush un riempimento giallo e non ha contorno o meglio non ha contorno non lo sono sicuro che non abbia contorno però facciamo che non abbia contorno per complicarci le cose gioco originale forse ce l'ha il contorno c'ha questo contornino qui sarebbe carino per esercizio è possibile farlo ragazzi giocare con la texture di sfondo e metterci proprio l'immagine del nokia in cui solo noi quello che cazzo qua dentro andiamo a cambiare sarebbe una figata c'è proprio un'applicazione che ha come forma della finestra il nokia si può fare la sicuro che si può fare però ovviamente richiede un po di sforzo è quello veramente lo potete mettere su github ho fatto lo snake che con il nokia di sfondo va bene la prima cosa da fare però nel painter non dimentichiamoci settare l'area di gioco la primissima cosa da fare che già stavo dimenticando quindi la prima cosa da fare è dire il mio mondo quanto è grande set window lo ricordate dove l'origine il sistema riferimento tipicamente nei giochi l'origine 0 0 in alto a sinistra quanto è grande in larghezza e in altezza chiedo per voi quanto è grande dobbiamo dire il numero di pixel o dobbiamo dire il numero di caselle perché lo snack si muove per caselle nota è una griglia alla fine lo snake ricordate che la finestra questo window lo so che il nome forse un po ambiguo non è coordinate fisiche di pixel ma è coordinate logiche quindi cui noi stiamo decidendo quanto grande deve essere il nostro snake è nokia original snake dimensions grid dimension grid dimensions qualcuno mi può aiutare no 12 per 12 non ci credo veramente ma non è un quadrato non mi sembra 12 per 12 credo proprio vabbè ragazzi ci mettiamo qualcosa e poi casomai la cambiamo tra l'altro questa dimensione potrebbe essere anche un prof 40 per 40 veramente è trovato proprio la pagina penso ufficiale non so è un po tanto ho scritto snake grid sykes mettiamoci 40 per 40 però l'importante che capiamo che questa dimensione potrebbe anche essere un input del problema cioè vuoi lo snake e quanto lo vuoi grande in grid anzi potrebbe anche essere una specie di progressione di livelli all'inizio si parte da 10 per 10 20 per 20 30 per 30 anche se fosse il contrario più grande è più facile non lo so non saprei dire esattamente la difficoltà però potrebbe essere necessario mettere queste cose dentro una variabile perché è necessario mettere dentro la variabile perché se io metto i numeri i ragazzi numeri non sono mai cosa buona i numeri fissi nel codice sono indice di una decisione un po troppo forte e da dove ci accorgiamo che questa cosa è sbagliata nel momento in cui noi dobbiamo dobbiamo andare a dimensionare la finestra a un certo punto noi dobbiamo dire che la finestra ha delle dimensioni dimensioni di larghezza e altezza queste dimensioni dovrebbero essere proporzionali al numero di caselle cioè se io ho 10 per 20 quindi un rettangolo la finestra deve essere rettangolare se c'è un quadrato deve essere quadrata cioè la finestra deve mantenere le proporzioni dello snake e il problema è che io questi numeri non ce li ho perché li ho messi là dentro i numeretti quindi uno diceva bene rimetto anche qua dentro ma questa non è una buona programmazione se cambia qui deve cambiare anche lì la cosa più carina da fare è definire proprio delle variabili dell'oggetto quindi int colonne righe oppure larghezza altezza larghezza altezza fa pensare più a i pixel invece righe di colonne fa pensare ad una griglia con i numeri di righe numeri di colonna quindi rose e calls certo possiamo mettere qui dei valori dei predefiniti quindi possiamo dire che predefinito numero di righe 40 numero di colonne 40 e quindi possiamo metterci noi dei valori predefiniti però è importante che poi noi andiamo a mettere poi i sì int rose int calls è importante che poi questo ce lo andiamo a memorizzare e adesso il fixed size lo sappiamo adesso sono numero di righe per un moltiplicatore che determinerà il livello di zoom praticamente di questo snake cioè se noi facciamo 40 per 40 l'area logica e 40 per 40 è molto piccola quindi potrebbe essere mappata persino in 40 per 40 pixel se siamo noi a decidere come mapparla cioè se noi facciamo questo se noi facciamo questo ok diciamo che la nostra finestra ha dimensioni a parte questa è larghezza quindi il contrario larghezza altezza se noi diciamo così la nostra finestra avrà dimensioni 40 per 40 sarà altamente piccola non riusciamo a vedere niente quindi ci vuole un moltiplicatore che definisce lo zoom per esempio per esempio 10 sento un microfono avete un suggerimento per esempio 10 quindi un fattore 10 il 40 per 40 diventerà un 400 per 400 e bene adesso finalmente possiamo fare il set windows size però qua ci mettiamo dimentico sempre larghezza altezza quindi calls e rose quindi questo è il momento in cui noi abbiamo definito il nostro minecraft world cioè un livello un mondo che è grande cos per rose griglia ed è grigliato minecraft è grigliato del resto un gioco fantastico minecraft varrebbe la pena farlo in classe un giorno che mi metto in testa di farlo però serviranno un sacco di lezioni non è impossibile da fare con gli uniti si può fare in due tre ore o minecraft abbastanza abbastanza funzionante cioè che posso scavare i blocchi posso creare delle cose con le texture con la generazione del terreno uniforme era randomica servono due tre ore di unity però arriverà un giorno in cui parlerò di unity questo costo ma non è questo l'anno mi dispiace serve servono un po di ore solo per unity e poi anche per per minecraft però potrebbe essere un prossimo gioco di implementare quindi il nostro mondo è fatto di calls per rose dobbiamo adesso disegnare un pannello quindi non c'è il contorno quindi dobbiamo resettare la penna dicendogli che non c'è nessuna penna perché altrimenti lui ha un tratto di default che se non se noi gli diciamo di togliere il tratto lo disegnerà anche il contorno e tra l'altro il contorno lo disegna spesso di uno uno è una casella quindi non vedremo proprio una cornicione enorme attorno al nostro sfondo che non ci piace risettiamo il il brush sarebbe riempimento il riempimento per noi è un q brush che prende da un color q color che vuole una terna rgb rosso green blu che dovrebbe essere questa qui ok quindi questa è la terna set brush devo disegnare adesso il draw un rettangolo che grande quanto tutta la finestra quanto è grande la finestra ci sta un metodo di tipo painter quanto sei grande window rect window angolo perché adesso ho settato qua ho settato il rettangolo della finestra adesso voglio disegnare un rettangolo grande quanto tutta la finestra e quindi la finestra stessa vediamo se dovrei vedere adesso un una finestra quadrata le dimensioni 400 per 400 quindi più piccola dello schermo mostrato gialla se è andato bene se non è andato bene bene non lo so dobbiamo capire come dice binotto a primo tentativo proprio per adesso non va bene poi vedere se sarà sempre così è andata io penso ancora che non siano queste dimensioni lo snake perché non è quadrato lo schermo del del nokia ho sbagliato a leggere perché 40 per 40 era la casellina la casellina c'è la dimensione in pixel di una casella ok 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 no invece dice qui la larga 12 tessere e alta 9 celle 12 larga e 9 tessere la griglia ok piccolissima solo 9 va bene beh questo mi fa pensare che probabilmente il nostro fattore di zoom 10 lo vedo un po piccolo adesso infatti ok va benissimo si ok lo facciamo un po più grande magari che ne so un fattore 15 anche questo dovrebbe essere un parametro è però per adesso lo lasciamo così è stato solo nel costruttore e dove che ho sbagliato forse da 10 a 15 non cambia niente effettivamente quindi 50 50 quindi 12 per 50 più o meno 1000 pixel questo va tutto schermo più o meno ok adesso ci siamo bene però non c'è niente non c'è lo snake non si muove niente quindi però non si chiude nemmeno giustamente devo chiuderlo così adesso è un momento di finalmente decidere lo snake che cos'è lo snake come si muove con che dinamica dobbiamo ragionarsi dobbiamo riflettere dobbiamo capire come dice pinotto beh andiamo un attimo nella slide ingrandiamo e se ci ricordiamo come funziona lo snake lo snake non si muove in maniera fluida ci sono dei snake sicuramente che si muovono in maniera fluida là fuori qualcuno se li ha inventati se li è programmati però lo snake originale si muove aggiungendo un quadratino ad ogni movimento giusto cioè questa è la testa adesso non so se la testa è questa e questa supponiamo che questa sia la testa bisogna aggiungere un quadratino qui e togliere un quadratino in coda quindi in testa si aggiunge un quadrato nella direzione in cui sta andando lo snake e in coda si toglie un quadratino quindi questi quadratini per noi potrebbero essere ad esempio le celle e ogni cella da cosa identificata a livello di coordinate quanto ci vuole per identificare una cella in coordinate una coppia una coppia di numeri un punto quindi per noi la cella è un punto perché perché per noi le celle sono dimensioni uno per uno questo è stato il vantaggio di dividere il mondo in griglia e per noi ogni cella rappresenta un possibile pezzo dello snake quindi un punto nella un punto nel nostro mondo minecraft 12 per quello che è rappresenta un possibile pezzo dello snake quindi un punto è una cella rappresenta un pezzo dello snake e anche per esempio il cibo occupa solamente una casella quindi il coupon c'è stato perché è fatto di punti praticamente è fatto di celle questo questo snake ok ma com'è fatto che struttura dati devo usare beh non è che ne conoscete tante conosciamo i vector i list i map i set e penso nient'altro giusto? quindi una di queste quattro map ma map de che? set ma set de che? vector e list su questa struttura dati che tipo di operazioni andrò a fare? perché la scelta di una struttura è determinata anche dal tipo di operazioni beh devo aggiungere una cosa in testa ed eliminare una cosa in coda il vector è adatto a operare in testa e in coda? vector c'ha... riformula la domanda come se fossimo in tribunale vector ha un push front e pop back? se non ha questi metodi il vector probabilmente non è adatto al nostro scopo cioè lo snake è una sequenza di punti che però cambiano in testa e in coda quindi mi serve un metodo una struttura che mi consente di agire in testa e agire in coda questa struttura è list c'è poco da fa perché quelle che conosciamo quelle sono in alternativa sarebbe stato molto più complesso però molto più complesso si poteva fare lo snake si poteva implementare tramite una linea una spezzata, una poli line, poli line, q, poli, poli line da qualche parte ci sta una cosa del genere questi però sono oggetti che stanno nel graphics view framework nel graphics view framework ci sono le polilinee le polilinee sono una serie di spezzate che si uniscono quella è una per esempio una struttura che si poteva usare per lo snake però noi qui non abbiamo il graphics view framework siamo ad un livello ancora più basso quindi non ci rimane che dire includi lista questo non risolve tutti i problemi è soltanto una scelta e quindi il nostro snake è una lista di punti questo è il nostro snake il cibo cos'è? devo anche metterci il cibo no? ce lo devo mettere perché nel momento in cui lo genero poi bisogna andare in un'altra funzione a dire ma per caso lo snake l'ha mangiato se l'ha mangiato genero da un'altra parte quindi metterlo come variabile del gioco mi sembra una cosa opportuna devo memorizzarlo questo è il cibo come sarà il cibo? di che tipo sarà il cibo? ditemelo voi ma è un good point perché se abbiamo detto che una cella è occupata da un pezzo di o snake o di cibo allora quello è un cibo bene lo inizializziamo questo snake così possiamo vederlo per esempio nel metodo di reset lo possiamo inizializzare snake.pushback qpoint e dobbiamo decidere dove mettere lo snake io mi ricordo la schermata iniziale da dove parte sto snake facciamo partire in alto a sinistra non lo so ditemi voi al centro perfetto e allora rose point vuole sapere xpots posizione orizzontale parte al centro va bene cols diviso 2 rolls diviso 2 primo pezzo dello snake è un pezzo che parte al centro però lo snake non parte da non ha un corpo di una cella di solito ha un corpo già un po' lunghetto di 3-4 e quindi possiamo fare una cosa del tipo aggiungiamo gli altri tre pezzi aggiungiamo pezzi che sono adiacenti l'uno al precedente quindi se diciamo se diciamo aggiungi un pezzo che rispetto a quello che c'è prima è sfasato di per esempio una cella in orizzontale perché questo è orizzontale verticale usando l'aritmetica l'overloading degli operatori dei qpoint eccetera eccetera possiamo dire semplicemente guarda il primo pezzo sta al centro il secondo rispetto all'ultimo che ha inserito sta a destra di 1 e questa cosa la possiamo scrivere 3 volte 4 volte quello che vi pare 1 2 e 3 anzi siccome la stiamo scrivendo 3 volte e vogliamo risparmiare righe di codice so che sembra una cosa un po' strana magari lo vogliamo fare di 4 anziché scrivere per 4 volte lo stesso codice possiamo scrivere orint i uguale a 0 i minore di 4 i più più che dite? per 4 volte ci mettiamo aggiungiamo un pezzettino a destra e adesso vediamo se si vede questa cosa si vede beh si vede se se lo disegno quindi dopo aver disegnato lo sfondo devo disegnare eh devo disegnare lo snake e come è fatto a disegnare lo snake? come è fatto? non posso disegnarlo non posso disegnare si potrei disegnare un poligono complesso però è più semplice disegnare un quadrato alla volta un pezzo alla volta quindi per ogni pezzo dello snake posso disegnare un rettangolo che un rettangolo che ha per coordinate quelle dello snake quindi p.x p.y quelle del pezzo dello snake il pezzo il punto che sta nella lista e dimensioni orizzontali e verticali 1 e 1 occupa una cella ovviamente però prima di disegnarlo forse conviene cambiare colore perché altrimenti questo disegna dello stesso colore dello sfondo e il colore dello snake è quello che sta qui ok vediamo se disegniamo questo snake qualcosa è andato storto c'è lo snake sta lì però non sta dove dovrebbe stare dovrebbe stare al centro quindi ho sbagliato abbiamo sbagliato qualcosa che abbiamo sbagliato? io lo so dove abbiamo sbagliato però non è facile sono stati richiamati sono qua ragazzi eh l'ordine delle cose le assegnazioni dei membri si fanno sempre prima di tutto quello che c'è dopo perché quello che c'è dopo potrebbe dipendere da quello che c'è prima cioè se tu hai ricevuto un input dal costruttore questi parametri la prima cosa che devi fare è assegnarli non prima fare reset che fai reset e questi stavano dopo che fai prima reset e poi fai l'assegnazione dei parametri quindi l'ordine conta e quindi questo cosa andava a leggere qua andava a leggere 0 non è detto che sia 0 potrebbe essere un numero anche casuale quindi 0 diviso 2 fa 0 e quindi partiva da in alto a sinistra adesso invece deve partire dal centro perfetto è bello grosso questo snack è grosso perché 12 per 9 ma è sicuro che 12 per 9 no vabbè lo lasciamo 12 per 9 però adesso anche perché il fatto che sia grande magari ci consente anche di di che poi possiamo cambiarlo insomma possiamo anche farlo che ne so aumentare un attimo le eh no mi verrebbe mente proprio di aumentare il numero di vabbè per adesso lo lasciamo così 12 per 9 poi vediamo come si giocando vediamo se è brutto lo facciamo tanto l'importante è avere dei parametri di 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 ingresso anzi qua ci possiamo mettere pure lo zoom int zoom e il il fattore di zoom di due fort zoom scale o meglio si chiama il fattore di default abbiamo detto che abbiamo usato abbiamo usato 50 quindi scale scale int scale default abbiamo usato 50 quindi ci mettiamo 50 quindi praticamente questo ci consente qui nel costruttore del main potremmo addirittura leggere la riga di comando cioè chiedere all'utente come lo vuoi sto snake e qui per esempio se adesso io ci metto non più 12 9 ma ci metto che ne so 20 righe per 30 colonne il fattore di zoom un po' più piccolo 20 dovrei vedere un gioco diverso da prima solamente avendo cambiato i parametri del costruttore per esempio questo che non lo so se è più bello o meno bello però comunque è l'importante che sia controllabile dall'utente magari ci mettiamo uno zoom più più grande così vediamo meglio quello che succede tra poco ok bene il cibo l'abbiamo fatto lo snake l'abbiamo fatto il disegno dello snake l'abbiamo fatto dobbiamo fare il disegno del cibo e la generazione del cibo e ma il cibo dove lo generiamo per esempio il reset ma perché il reset così come abbiamo fatto lo snake dovremmo fare anche il cibo per esempio il cibo mettiamolo lo mettiamo in un punto fisso che ne so dove lo mettiamo o lo mettiamo a caso però se lo mettiamo a caso rischia che va sopra lo snake eh 5-3 disegniamo il cibo come lo disegniamo nel gioco originale il cibo è un cerchio vuoto quindi ha un contorno è un cerchio vuoto e quindi 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 questo è il disegno dello snake il disegno del cibo dobbiamo fare adesso dobbiamo settare la penna u pen penna di colore di colore posso usare direttamente il colore beh il colore è sempre sempre quello dello snake quindi cupen vuole un colore un brush vuole uno spessore beh lo spessore non ci possiamo mettere uno perché uno sarebbe uno è come la casella uno quindi praticamente diventa tutto un pieno capito qua il sistema di coordinate va ancora in coordinate logiche per noi una casella è il cibo quindi se ci mettiamo spessore uno è il contorno quello fa un contorno di spessore di una casella quindi no quindi magari 0-1 anche più piccolo e e poi il resto non mi interessa eh devo però eh non fare il riempimento brush no brush quindi tolgo il riempimento attivo la penna e disegno un magari un rettangolo arrotondato perché il cibo è una specie di un rettangolo un cerchio un rettangolo arrotondato quindi che sta nel sta dove sta sta in food.x food.y dimensioni 1-1 e il raggio di curvatura che ne so 0-5 0-5 il raggio di curvatura x y vediamo che schifezza andiamo a disegnare beh non male come primo tentativo quindi questo è il nostro cibo però il gioco è fermo non ha vita la vita gliela dobbiamo dare noi quante righe di colisiamo 87 vabbè però poi ci sta il trucchetto delle parentesi quello ci farà spammiare altre 10 15 righe dobbiamo dobbiamo far avanzare lo snack il problema è che l'avanzamento dello snack non è casuale ma è comandato dall'utente cioè se l'utente preme destra va a destra se preme su va su eccetera e se non preme niente va nella direzione attuale quindi ci serve qui una variabile che ci indichi qual è il prossimo punto dove andare a mettere sto snack cioè riprendiamo riprendiamo questa questa immagine che può essere di cireiuto supponiamo che questa sia la testa supponiamo che io non sto premendo nulla se io non sto premendo nulla il prossimo la prossima casella dove andare a mettere lo snack è quella che sta a sinistra se io premo su è quella che sta su se io premo giù è quella che sta giù se io premo destra devo evitare che accada quindi da qualche parte ci sarà un controllo del tipo non puoi non puoi andare nella direzione opposta a quella a cui già stai andando però ci serve adesso nel codice una variabile che ci indichi qual è appunto il prossimo il prossimo passo da fare che idea avete che ci mettiamo il prossimo passo è una lista non possiamo mettere direttamente all'inizio di domande in un'attività in un'attività in un'attività in un'attività in un'attività in un'attività eliminare il pezzo che sta in una coda e aggiungere l'intersta direttamente in un'attività sì potremmo farlo il problema è dove lo aggiungo perché se io prendo la coda e lo metto in testa la coda ha una coordinata della coda e se lo metto in testa cioè devo cambiare la coordinata capito cioè lo snack è fatto di punti anche se io tolgo un punto dalla coda quel punto sembra quelle coordinate il problema che mi serve sapere dove andare a mettere cioè questo snack gli manca una informazione questo snack è fatto di punti ma gli manca la direzione di avanzamento cioè non sa dove sta andando che ne sapete voi in questo momento come fate voi a sapere che questo snack sta andando a sinistra su e giù potrebbe essere che sta andando anche su ma non lo sappiamo perché appunto ci manca una variabile che questa variabile è una variabile che useremo appunto per decidere cosa mettere in testa ci sono due opzioni o definire come abbiamo definito con game state una direction qui direction up right bottom left ed è quello che ho fatto sempre tutti gli anni l'anno scorso però lo studente si è riuscì con una una trovata davvero geniale anziché perché per far rispondere righe di codice ovviamente anziché fare una num direction e quindi praticamente che succede nel codice se la direzione è destra aggiunge un punto a destra se la direzione è sinistra aggiunge un punto a sinistra ma non possiamo mettere qua direttamente il punto da aggiungere cioè se è destra questo punto da aggiungere più che un next point lo chiamavano meglio adesso se è destra vale uno zero quindi è una sorta di epsilon da aggiungere al nostro al nostro snake quindi questo non è questo non codifica il punto esatto infatti non lo devo chiamare next point non codifica il punto proprio il nuovo punto da mettere ma codifica la direzione di avanzamento quindi questo si potrebbe chiamare anche direzione soltanto che anziché essere un enum è una cosa del tipo uno zero destra zero uno in basso meno uno zero sinistra zero meno uno in alto e non può essere meno uno meno uno che si rinfreghebbe diagonale e uno e uno diagonale in basso a destra non può essere diagonale quindi l'idea di quello studente fu di comunque avere una variabile direzione perché comunque qua ci voleva o facevamo qua un enum direction ci mettevamo qua direction dir o come propose lo studente di memorizzare la direzione in un punto e qual è il vantaggio il vantaggio che se la direzione è 0 1 1 0 come faccio ad ottenere il prossimo punto dello snake piglio quello che sta nell'ultimo nella testa dello snake e ci aggiungo dir e questo mi dà il punto nuovo dove fare il movimento e questo ha fatto risparmiare 10 righe di codice fu una bella trovata devo dire non mi era mai capitato nemmeno a me di pensarci in questo momento che mi occupavo del codice quindi vediamo come funziona questa cosa la direzione di avanzamento di default quella praticamente che si mette in reset dobbiamo decidere noi beh se lo snake è orizzontale mi aspetto che la direzione di default sia sia destra no? right quindi che significa fare l'avanzamento l'avanzamento si deve fare nel metodo advance questo è il metodo che fa l'avanzamento significa che io al mio snake adesso gli aggiungo in testa lo so che qua c'è pushback però per noi la lista è l'ultimo elemento è la testa perché è lì che avviene il movimento significa aggiungere cosa aggiungere a quello che già sta in quello che già sta in testa ci aggiungo dir e in una riga di codice abbiamo fatto l'avanzamento ovviamente non copre tutte le eccezioni dobbiamo adesso ragionarci però questa cosa mi fa pensare che adesso io vedrò ovviamente non basta fare questo devo anche cancellare l'elemento di coda che nello snake è quello che sta il primo dell'elemento quindi cancello quindi cancello la coda e aggiungo in testa e qui adesso dovrei vedere lo snake che se ne va e se ne va davvero se ne va perché questo supererà probabilmente quando premere lo start supererà lo schermo non è andata proprio benissimo c'è qualche bug più o meno qual è stato il problema up front perché è rimasto sul posto per un po' di tempo no tra l'altro guardate il vantaggio di fare questa cosa qui è che io se definisco la direzione di default e la definisco prima di aver definito lo snake posso dire che lui si andrà la direzione di default dello snake la posso usare per creare lo snake iniziale quindi se la direzione di default la cambio diventa 0,1 quindi verticale lo snake diventerà verticale all'inizio quindi questo ha quest'ulteriore vantaggio di essere più malleabile lo snake iniziale però questo non toglie il fatto che c'è un bug non toglie il fatto che c'è un bug perché c'è questo bug cos'è avvenuto andiamo un po' più lenti magari con con il con il frame rate dopo un po' dopo un po' parte c'è un doppio reset ditemi ah c'è un doppio reset dove sta? ah bravo bravo esattamente crea due volte crea due volte lo snake avete ragione quindi crea è un casino bene però unice lo tolgo e ho fatto e però se stai in game over vedete quella cosa di fare il new per risparmiare la riga adesso ci sta complicando perché qui in modo dobbiamo fare una if qua quindi alla fine conveniva fare il new però va bene cerchiamo di ragionare se riusciamo a sintetizzare questa cosa se se non faccio il reset qua ovviamente quello da game over non ha nessun modo di farlo il reset va fatto per forza però va fatto solo nel caso in cui io sto in game over altrimenti no oppure oppure no il reset comunque lo devo fare nel costruttore se non faccio il reset nel costruttore quando parte il gioco non c'è niente proprio niente eh ragazzi secondo me ma ci conviene ragazzi ci conviene ci conviene ripestinare il game over new anche perché questa è una riga di codice chi n questo deve solo fare reset non devo non capire le graffe capito quindi se questo è ready allora fa quindi il reset viene chiamato la prima volta e poi solo quando dopo il game over dico gli farà una nuova partita farà una nuova partita però resetterà il gioco e non farà partire il gioco quindi dovrò comunque premere start anche dopo aver premuto n però se faccio vedere delle scritte questo si capisce cioè se faccio quindi adesso non dovrebbe succedere quello che è successo prima ok riparto il gioco e snake se ne va avanti la pesca esce dall'area il disegno perché non gli ho mai detto di rientrarci del resto ripristiniamo il frame rate 10 fps e a questo punto qui devo fare qualche ragionamento tanti ragionamenti cioè l'advance è il momento in cui uno dice se lo snake si mangia da solo è game over se lo snake va oltre lo schema lo devo teletrasportare se lo snake mangia il cibo non devo fare il pop front non devo togliere la coda se mangi il cibo si deve allungare quindi non lo devo accorciare in un modo diverso di dire non lo devi accorciare e quindi un po' di cose ne devo fare qua dentro siamo a 92 però abbiamo il trucchetto ci riusciamo a fare queste cose innanzitutto riusciamo qui a scrivere qualcosa in key right key left key down eccetera sì però questo è il momento in cui l'utente usa i comandi quindi è il momento in cui dobbiamo andare a cambiare la direzione di movimento però se lo facciamo in maniera cieca non lo possiamo fare in maniera cieca perché se l'utente dice di andare a destra ma lo snake sta andando a sinistra noi non possiamo cambiare la direzione cioè dobbiamo rifiutarci di farlo quindi qui bisognerebbe aggiungere la condizione e running ok hai premuto a destra ok ma lo snake non sta andando a sinistra perché se sta andando a sinistra tu a destra non ci puoi andare quindi and qual è la condizione per capire che non sta andando a sinistra che è dir di x diverso da meno 1 mi pare giusto? perché meno 1 è il primo meno 1 significa se la x è meno 1 significa che sta andando a sinistra quindi non sta andando a sinistra se non sta andando a sinistra allora posso dire che dir punto adesso posso dire dir.setx vai a destra quindi vai a destra significa così e vai e poi devo anche ma si può fare un set di tutte e due set no non ti può fare un set in una sola riga di codice se vozzino oppure faccio questo vai a destra quindi 1 0 qua qua avviene un'assignazione un costruttore di copia una riga di codice quindi tolgo le parentesi graffe e inizio a risparmiare codice e stesso ragionamento qui se l'utente vuole andare a sinistra lo può fare solo se non sta andando a destra quindi se la x della direzione non è 1 e in quel caso può andare a sinistra significa meno 1 qui questo punto è abbastanza meccanico la situazione vai giù significa 0 1 vai su significa 0 meno 1 meno 1 e qua ovviamente il controllo che non se tu stai andando se vuoi andare giù lo puoi fare se non stai andando già su se vuoi andare su lo puoi fare se non stai andando giù si trovate? beh c'è solo un modo per vedere se funziona vedere se questo snake obbedisce ai miei comandi su sinistra giù a destra benissimo adesso vediamo il caso in cui inverto la direzione vado a sinistra non ci va vado giù non ci va vado su non ci va e vabbè penso di aver scoperto tutti i casi vado a destra non ci va quindi si rifiuta di invertire la direzione come giusto che sia però però si può compenetrare esce rientra rientra perché immagino è come se cioè quando una cosa esce dall'area di segno non è che smette di esistere continua ad esistere ma semplicemente non la vediamo ovviamente il cibo non lo non lo considera proprio perché non abbiamo implementato la mangiata implementiamo la mangiata quindi la mangiata come si implementa gestione delle collisioni albero ma che ragazzi se questa è una griglia in cui i punti corrispondono ai pezzi la mangiata avviene quando quando la testa del serpente coincide con il cibo qual è la mangiata giusto quindi lo devo fare prima o dopo ecco dove lo devo fare questa cosa devo innanzitutto questo lo faccio a prescindere di far spostare lo snake beh sì la prima cosa da fare l'advance significa sposta lo snake anzi direi che questa è forse l'unica cosa di cui sono sicuro perché io intanto ci metto questa nuova casella poi dovrò dire se capita sul cibo mangio ma se capita su uno del pezzo del mio corpo muori quindi questo sta riga è la prima ed è probabilmente l'unica cosa sicura qui invece seguono dei controlli un controllo del tipo ma se hai mangiato quindi se la testa dello snake coincide con il cibo io devo mangiare che significa mangiare ma più che aggiungere un pezzo di testa nello snake originale la coda non decresce quindi questo pop front in realtà lo devo fare quando non devo mangiare quindi non so se se non stai mangiando togli un pezzo di coda ma se stai mangiando questo vale con l'ugale quindi viene negata questa condizione quindi non viene tolto un pezzo di coda e quindi non viene tolto un pezzo di coda quindi dovrei vedere che quando io mangio la coda rimane lì per un attimo e poi continua a muoversi sta venendo una cosa un po' particolare non so se è che si sta allungando ma il cibo sta sempre lì quindi comunque sta funzionando la mangiata però effettivamente nella cosa di risparmiare righe di codice mi sono dimenticato che il cibo va comunque gestito quindi se deve mangiare dovrò fare qualcosa col cibo altrimenti dovrò fare qualcosa con la coda dello snake che significa fare qualcosa col cibo il cibo lo devo spostare e dove lo metto sto cibo e mo' si apre tutta una una parentesi allora la cosa più ignorante da fare è metterlo a caso quindi rand rose allora rand è un numero casuale da zero fino a un numerone rand max il resto della divisione per rose ci darà un numero tra zero e rose tra l'altro questo è cols tra zero e cols meno uno e questo va bene perché le celle vanno da zero a cols meno uno quindi rand resta la divisione per rose questo va bene però ha un problema intanto vediamo che funziona il problema è che il cibo potrebbe essere generato sopra lo snake ora chiaramente ha voglia ad aspettare qua devo giocare tanto per vedere che questa cosa succede quindi quindi ragazzi non lo so io direi tanto la pausa funziona penso che funziona benissimo quale sarebbe un approccio alternativo che però non implementiamo perché non abbiamo il tempo e non l'abbiamo mai fatto anzi non ne ho mai proprio parlato quest'anno ne voglio parlare un approccio alternativo quale sarebbe secondo voi per evitare che la generazione casuale avvenga sopra lo snake beh una cosa ancora ignorante sarebbe controlla se l'hai generato sopra lo snake se l'hai fatto rigenera beh quando lo snake occupa l'80% dello schermo qual è la probabilità che questo avvenga 80% e quindi voi vi mettete in un ciclo diciamo quasi infinito a generare le cose il gioco in sera andrà a scatti quindi non è questo l'approccio tra l'altro questo è un problema che hanno anche alcuni progetti mi pare il generatore di aeroporti dell'air traffic control anche loro devono generare degli aeroporti a caso però devono evitare che due aeroporti generati a caso siano troppo vicini ovviamente se loro fanno questo controllo se sono troppo vicini e continuano a generare il rischio è che se la densità dell'aeroporti è elevata ci metta troppo tempo quindi che vi viene in mente e se lo snake è attorcigliato e qua ci sta la sua coda sì sì no no ok no non è male come idea l'idea che anzi forse è migliore di quella che avevo io sicuramente è migliore però la posso migliorare come idea parto dalla sua idea allora io avevo in mente questa idea però quella del vostro collega è migliore secondo me allora l'idea che avevo in mente io è qualcuno ha un'altra idea? 5 non deve essere inteso nel punto della lista è come lo faccio sì sì è giusto allora ragazzi è però non basta un ciclo for perché ragazzi però comunque quello che ha detto lei in realtà fa parte della soluzione che sto per dire il numero di caselle nel gioco è limitato è finito quindi se immaginiamo come un insieme un insieme proprio di venne di grammi di venne se io prendo l'insieme che sono il numero di caselle del gioco e sottraggo quindi con un ciclo for le caselle dello snake le rimanenti sono quelle dove può andare il come si chiama questa sottrazione però con che struttura che struttura dati devo usare? beh se faccio un vector è tosta perché in un vector metto tutte le caselle di gioco e ogni volta che si sposta lo snake vado a cercare quelle caselle che sono dello snake le togo e quelle che rimangono le devo aggiungere quindi devo fare inserimenti e cancellazioni dentro il vector la list la list uno dice sì puoi fare le cancellazioni gli inserimenti dentro però tu non sai dove farle chi vi dice che è ordinata questa lista nel momento in cui voi andate a fare inserimenti e cancellazioni questa cosa si disordina e voi dovete fare quindi un ciclo su tutti gli elementi esaustivo esiste una struttura che tra l'altro ha lo stesso nome di quello che ho appena detto se io ho detto guardate immaginate l'insieme delle coordinate delle caselle del gioco insieme in inglese significa set e guarda caso c'è una struttura che si chiama set se io dentro il set ci metto tutte le caselle del gioco che sono punti quanti sono che ne so 20 per 20 400 punti e vabbè 400 punti ogni volta che aggiungo un pezzo allo snake lo tolgo dallo set e ogni volta che tolgo un pezzo dallo snake lo aggiungo al set a questo punto il set contiene in maniera ordinata tutte le caselle del gioco basta che ne prendo una magari non la prima perché il set è ordinato quindi mi darà sempre quella in alto a sinistra ne prendo una a caso genero un iteratore nel set a caso e mi darà una casella non occupata e questa era la mia idea che un po' si rifà su quello che dice lei io so cosa occupa lo snake con un ciclofort li tolgo tutte quello che ho detto io però è soltanto la testa e la coda iterative da set però l'idea che ha dato lui è interessante perché anziché andare a cercare tra tutte le caselle del gioco io faccio un'ipotesi l'ipotesi è che se il gioco sta se il giocatore sta giocando seriamente davanti a sé ci avrà dei vuoti perché se non c'ha dei vuoti è morto no? se non c'ha nemmeno una casella vuota è morto quindi forse l'idea del vostro collega potrebbe essere implementata dicendo questa ricerca nel set non la fare in tutta l'area di gioco ma solamente qua dentro per risparmiare un po' di tempo computazionale però in realtà non risparmia tempo computazionale perché il set ha un accesso identico ossia che non c'è la differenza tra quello che sta davanti e quello che sta attorno e poi ci sarebbe anche un altro problema che se io genero il cibo solo in un intorno della testa sto facilitando il giocatore in una situazione come questa il cibo mi verrebbe messo qua 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 e qua e non qui per esempio che sono le situazioni che creano più ingarbugliamento all'interno del gioco però comunque è interessante come idea per risparmiare il tempo computazionale ci potrebbe anche stare lo facciamo o non lo facciamo lo lasciamo come esercizio che dite quante righe di codici occupa una cosa del genere devo dichiarare un set una riga di codici nella classe devo inizializzare il set con tutte le cassette del gioco un ciclo for con una linea dentro altre due righe tre poi dentro il for dello snake ogni volta che lo inizializzo una riga di codice per toglierlo dallo set quattro righe di codice poi nel movimento dello snake aggiungo la testa devo togliere dal set quindi cinque toggo la coda aggiungo nel set sei e poi la generazione del cibo è un iteratore casuale all'interno del set devo si può fare in una riga si può fare in una riga set si è vero è vero conto solo il cpp sei sappiamo che con serie di codice questa cosa questo bug lo fixiamo però per adesso lasciamo ci complica o lo volete fare se volete fare io lo faccio siete lì quest'anno decidete come ogni anno decidete voi il problema è che noi non vediamo il vantaggio perché è talmente raro che succeda nelle prime fasi di gioco che non vediamo il vantaggio cioè io vado avanti a giocare qua dove sta il resume non lo so non non accade anche perché l'aria è molto grande quindi forse rimpicciolendo un po' l'aria si dovrebbe vedere questa cosa per adesso finire il gioco finiamo il gioco e poi vediamo se ci rimane tempo e voglia di fare questa cosa cosa ci rimane da fare quindi il cibo l'abbiamo fatto siamo a davvero siamo 88 righe di codice sono quasi impressionato se andiamo poi a togliere gli spazi e le parentesi qua rischiamo di fare il record di tutti gli anni vediamo siamo ancora in tempo per per farlo che ci rimane da fare ci rimane da fare il fatto che lo snake muore quando si attorciglia e ci rimane da fare il fatto che lo snake si teletrasporta da un punto all'altro e ragazzi il teletrasporto come lo possiamo fare dobbiamo fare dei controlli se tocchi il bordo destro vai a sinistra se tocchi il bordo superiore vai giù se tocchi il bordo inferiore vai su se tocchi il bordo destro vai come faccio a farlo in maniera breve a me non vengono in mente non so voi se vi viene in mente un modo di farlo in maniera compatta senza fare if 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 ma purtroppo questa è l'unica idea che mi viene in mente intanto scriviamolo mai nessun anno abbiamo fatto una cosa più breve di questa che forse c'è perché in realtà qua si sfrutta l'aritmetica modulare cioè se uno dice uno potrebbe dire ammazza mi sta venendo forse questa idea funziona solo però per la direzione destra in basso cioè quando io vado a raggiungere più dir io potrei qui fare il resto della divisione per il numero di colonne e il numero di righe quindi se eccede riparte da uno però funziona solo per destra e sinistra non funziona per sinistra su però questo mi fa risparmiare diverse righe di codice guardate ragazzi allora mi serve accedere alla x e alla y però non posso gestirlo su no 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 questo è solo sulla testa stiamo teletrasportando solo la testa nel gioco originale va bene che io teletrasporti solo la testa succede cioè succede che un pezzo sta di lì un pezzo sta di qui allora il ragionamento canonico è questo se la snake la x dello snake poi sta se la se la testa se la testa dello snake c'ha una x che eccede eccede quindi maggiore o uguale le l'area di gioco devi riportare la situazione devi teletrasportarlo quindi set x 0 devi teletrasportarlo a sinistra se va a sinistra di 0 quindi il bordo sinistro devi teletrasportarlo devi teletrasportarlo a false meno 1 e trasportarlo al bordo destro è la stessa cosa praticamente speculare nella y quindi y y y y y e qui sono rose capito il ragionamento? se tocchi il bordo destro ti riporto a 0 se tocchi il bordo sinistro ti riporto a cos meno 1 e sopra e sotto la stessa cosa quindi vediamo perfetto 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 però è più chiaro non voglio sacrificare la chiarezza per risparmiare due righe di codice quattro righe di codice scusate però sarebbe molto più strano il codice perché comunque la rettematica modulare funziona se si eccede un valore non se va a sinistra di 0 se è minore di 0 quindi in un caso userei la rettematica modulare nell'altro userei no preferisco una cosa che si capisca di più altrimenti già la vita è difficile poi questo codice va letto interpretato e quindi però penso che questo sia più chiaro certo siamo a 90 serie che di codice ci avviciniamo al limite però intanto il gioco funziona rimane da fare la morte dello snake e la morte dello snake dove la devo fare io direi di farla alla fine di tutto perché perché dopo aver messo la testa nuova dopo averla teletrasportata e dopo aver evidentemente aggiunto oppure no tolto oppure no un pezzo della coda quello è il momento in cui io posso fare la morte perché dopo perché cosa succede ragazzi che se lui ha mangiato il cibo e sta per toccare la coda la coda non scompare e muore è giusto che succeda così se invece la morte la controllo prima che mangi il cibo si crea una specie di glitch in cui lui può non morire anche se in realtà si sta per attraversare il corpo stesso quindi è un glitch ci potrebbe essere una configurazione in cui lo snake si attraversa senza morire quindi per evitare questo glitch bug come vogliono chiamare la morte dobbiamo controllarla per ultima e beh come la controlliamo la morte e qui dobbiamo controllare che la testa non capiti in una delle altre parti del corpo e non c'è altro modo da fare che con un ciclo con con un algoritmo di ricerca se lo facciamo con un ciclo penso se ne vanno tre righe di codice una per definire una booleana del tipo muori non muori uno che è il for e uno il corpo del ciclo tre righe di codice con la STL ce la caviamo con una riga di codice perché la STL ha un algoritmo che si chiama find allora il metodo il metodo canonico standard cioè semplice sarebbe for e beh devo usare per forza i iteratori perché non posso fare un controllo su tutti gli elementi dello snake devo confrontare la testa con tutti gli altri ma non posso confrontare la testa con tutti perché ovviamente troverò una corrispondenza la testa è quella la testa e quindi gli do game over solo perché è vivo lo snake e quindi non devo fare un ciclo su tutti gli elementi ma soltanto dal primo al penultimo e ma dal primo al penultimo col for generalizzato non si fa si fa con gli iteratori stavolta e quindi e quindi ho allora il precedente dell'ultimo è questo l'iteratore al penultimo si ottiene con prev il prev è un decremento dell'iteratore quindi questo è il postultimo posso fare una cosa del tipo guarda cercami cercami cosa tra il primo begin e il penultimo quindi questo è l'intervallo di ricerca cosa devo cercare devo cercare la coda snake.beck quindi find è un algoritmo dell'STL è un algoritmo di ricerca lineare che fa un ciclo su tutti gli elementi ha bisogno di sapere cosa cercare la testa nel nostro caso dello snake la cerca dove tra l'inizio e non la fine ma uno prima della fine cioè il penultimo per evitare che lo cerchi in testa la testa ovviamente coincide con la testa cosa restituisce find? se non lo trova restituisce l'elemento l'ultimo elemento del range quindi restituisce questo quindi se se find restituisce questo significa che non l'ha trovato ma se non restituisce questo significa che l'ha trovato cioè ha trovato la testa in un pezzo del corpo cioè lo snake si è intersecato e quindi in questo caso devo fare state game over game over ci sono tante parentesi qua non basta dire soltanto state game over devo fermare il gioco se no questo snake continua a muoversi e poi devo fermare il gioco che ne so magari posso mostrare potrei per esempio anziché mostrare dove sta qua il paint anziché farlo di questo colore potrei fare tutto beh oppure potrei disegnare proprio un if state quale quale game over potrei beh devo resettare la penna devo fare una cosa di questo tipo qua disegno un RGB disegno un quadrato un quadrato rosso con una trasparenza si può mettere la trasparenza? si con una trasparenza per esempio 100 che significa che su tutto il gioco ci sarà un alone di rosso che è un po' il nostro game over vediamo certo dura all'inizio lo snack non è abbastanza lungo conti? andata adesso provo a premere start siccome adesso la nostra macchina stati finiti prevede che io debba fare new game non posso dire start e parte il gioco quindi non dovrebbe succedere niente e non succede niente provo a premere P resume cioè provo ad hackerare il gioco e non mi fa hackerare l'unica cosa da fare è premere N mo che succederà non l'abbiamo mai provato premo N non succede niente vediamo perché se io premo N lui deve fare il reset e il reset ho idea che lui faccia quello che deve fare però non aggiorna la grafica con l'update quindi ci vuole un update da qualche parte per esempio il reset avrebbe funzionato avrebbe funzionato però è più corretto cioè sì avrebbe funzionato però è una transizione nascosta in quel caso quindi in realtà questo update ci garantisce che se io premo N lui rifa vedere questa scremata di benvenuto dove magari ci possiamo scrivere premere S per partire o morire sono morto sono morto in un modo strano sono andato su e poi sono andato a destra però l'ho fatto così velocemente che il controllo di direzionalità ha fallito perché il controllo di direzionalità cosa dice se tu stai andando a sinistra e decidi di andare a destra non ti faccio andare ma se tu stai andando a sinistra e decidi di andare su io ti faccio andare poi decido di andare a destra e ti faccio andare però se questo avviene velocemente lui non ha nemmeno il momento di e quindi questo abbia trovato un hack un hack questo non è un hack è un glitch è un bug è un bug sì 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 adesso l'arretromarcia non la fa perché muore però non dovrebbe farlo cioè quindi dovremmo introdurre una specie di ritardo cioè non puoi cambiare direzione troppo velocemente altrimenti cioè a me non puoi cambiare direzione prima di non aver fatto un passo altrimenti succede questo questo hack questo glitch vabbè comunque new game adesso gli appozio c'è uno snake in più beh però ragazzi perché io qua aggiungo ma chi ha detto che questo lo devo prima cancellare quindi aggiungo dopo aver pulito quello che c'è quindi sono morto prego new riparto da zero e posso partire quindi non ho idea di quello che succedeva voglio provare ma provate a casa quante righe di codice è questo codice? beh ragazzi insomma ci abbiamo messo un sacco le parentesi siamo a 110 ma siete d'accordo con me che se togliamo tutti gli spazi che ora io non tolgo e le parentesi graffe le mettiamo all'inizio sono sicuro che andiamo sotto i 100 proprio sicuro al 100% che vogliamo fare nei 5 minuti che ci rimangono? vogliamo risolvere un bug perché non l'abbiamo mai fatto gli anni scorsi ci fermavamo qua e tanto andava vogliamo risolvere un bug? che bug vorrete risolvere? la generazione del cibo o il fatto di andare a destra e a sinistra? questo è un bug più interessante impedire impedire che l'utente possa impicciarsi con le direzioni dove sta il problema? qui è il problema il problema è che tu gli hai consentito di cambiare direzione troppo velocemente come facciamo a impedirlo? non è banale potremmo usare a me viene in mente una soluzione però chiedo prima a voi come facciamo a impedire che l'utente cambi direzione due volte con un solo aggiornamento dello snake perché questo è quello che è successo noi dovremmo imporre una cosa del genere hai cambiato direzione? bene adesso io questo cambio direzione lo registro e non lo cambio più fin tanto che non lo applico allo snake quando l'ho applicato allora tu utente puoi premere quello che ti pare ma nel frattempo io ignorerò tutti i tuoi cambiamenti in direzione quindi l'utente preme 10.000 tasti in un secondo solo il primo è quello che io registro quando continuo a muovere lo snake mi rimetto di nuovo in ascolto di quello che l'utente ha premuto questo è in italiano ma adesso chiedo come lo facciamo questa cosa potrebbe essere una classe un metodo che ritardi la scendere un tasto forse c'è in Qt una cosa del genere ci potrebbe essere l'abbiamo forse usata sì questa è una possibile soluzione chiedere aiuto a Qt Qt per favore mi eviti che io possa ascoltare eventi di tastiera troppo vicini tra loro altra soluzione altra soluzione la sua soluzione è sicuramente io ho pensato a mettere un ciclo dentro che per ogni facciamo di avere un secondo veramente per ogni scambio del ciclo è un passaggio appunto così come il settembre fa un passaggio così viene il ciclo che è soltanto da un flag perché nei giochi ci sono tante flag flag è del tipo io mi sono mosso ok adesso posso registrare la prossima azione la registro il flag si disattiva e da quel momento in poi io non registro niente mi sono mosso riattivo il flag quindi una variabile che si attiva disattiva in funzione del fatto che può o no registrare le azioni dell'utente e questo è una riga di codice ma forse due altre soluzioni? proviamo a implementare questa soluzione? allora il flag lo devo mettere qua dentro è un flag booleano che lo chiamo come lo chiamo? can move non lo so ready to change direction troppo lungo can change dir che ne so una cosa di questo tipo questo va nel reset non nel costruttore ma proprio nel reset va messo ovviamente a true cioè l'utente può cambiare direzione subito quando parte il gioco quindi che ne so qui però quando si fa il movimento dello snack dov'è? nell'advance nell'advance dove stai? advance nell'advance lui qualunque cosa faccia alla fine ok muore non muore me ne frega però lui a questo punto dice falso falso significa che no scusate true è il contrario se lui ha fatto la sua mossa adesso è pronto a ricevere un cambio direzionale e allora chi è che setta questa cosa a falso? questo questo dovrebbe dire il cambio direzionale fallo solo se puoi farlo e quindi anche qui e quindi anche qui ora però si pone un problema righe di codice mettiamo una graffa in ciascuna di questi e ci mettiamo che in change dir oppure a questo punto adesso ci accorgiamo che forse 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 ci conveniva davvero adesso col senno di poi capitano il senno di poi fare una if esterna adesso adesso si vede proprio che c'ha senso perché la if esterna fa un controllo di precondizioni si chiamano così in informatica controlla quelle condizioni sono i tali che devono essere rispettate per andare avanti nel codice le precondizioni del movimento sono che deve essere running il gioco e deve poter essere ricettivo in termini di cambio direzionale solo se è così allora mettiti in ascolto dei tasti questo non serve più quindi il codice diventa anche un po' più elegante non c'è una if con quattro condizioni ma abbiamo diviso le responsabilità a questo punto dopo aver fatto certo attenzione attenzione a quello che facciamo stavo per fare un errore io stavo per fare questo perché è sbagliato perché lo cambia anche quando io non premo questi pussanti tra l'altro un'altra cosa che mi viene in mente è che questa if qua dentro siccome è mutuamente esclusiva ci entra in questi due casi ma se io sto premendo che ne so sto premendo s mentre lui si si dovrebbe togliere innanzitutto le sif prima cosa e poi questo change dir c'è niente da fare ragazzi si dovrebbe mettere in ogni cosa oppure fare che ne so un setter della direction e dentro quel setter ci metto fare una cosa di questo tipo e lo faccio nel ladder così sono furbo risparmio righe di codice setter void set dir qpoint new dir dir uguale new dir guardate che questa è una soluzione veramente è can change dir uguale false can change dir uguale false quindi adesso qua dentro io anziché fare questo gli dico set dir così 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 sì 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 decisamente decisamente sì quindi sì quindi deve essere running il gioco deve poter essere ricettivo a cambi direzionali vado a vedere se la direzione è quella che è e non può essere contraria a quella attuale la cambio cambiarlo attraverso un metodo set che quindi non è la prima volta che ci capiterà anche in altri casi ci capita che i metodi set forse adesso abbiamo capito davvero che servono non servono solo a settare la variabile ma a fare anche altro che potrebbe servire in quel contesto in questo caso setta questo flag a false vediamo se funziona quindi 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 devo essere veloce sì no è giusto che sono morto non mi sta facendo fare niente ignora proprio ignora cioè proprio prende la prima azione e ignora la seconda che è la cosa che volevamo bene bravi questo è il primo anno che risolviamo questo bug sulle righe di codice sono 113 ma se vi fate fuori tutte le parentesi graffe e tutti gli spazi cosa che per eleganza è meglio non fare però obiettivamente è così questo codice è sicuramente inferiore alle 100 righe domande, curiosità? volevo iniziare il pacman oggi ma forse sono stato troppo ottimista perché è giusto fare le cose per bene e non andare di fretta interrompo la lezione e la registrazione grazie grazie